Ogni anno sentiamo le lamentere degli acquirenti del calcistico EA lamentassi di essere costretti a pagare 60€ per un titolo che ha solo l'aggiornamento delle rose e piccole modifiche al gameplay Oltre a tutte le lagne delle microtransazioni, del gioco d'azzardo con FUT Perché ricordiamo che il FUT è fatto in modo da costringerti ad abbandonare il titolo perché è insostenibile In effetti il sottoscritto per quanto sia tentato di fare gli spacchettamenti su tale titolo me ne guardo ben dondi dal provarci Perché so che sono soldi inutili buttati nel cesso Perché tra un anno devo ricomprare il gioco e ricominciare tutto da capo Ricrearmi da zero la mia rosa che mi sono creato con tanto sudore Invece sarebbe stato fantastico se la mia rosa sudata è guadagnata con tanto sangue, sudore e sofferenza Potesse rimanere stagione dopo stagione, così come una squadra vera di calcio Non solo io sarei disposto a pagare un abbonamento mensile per giocare un gioco del genere Stile come si fa con vuo Ma anche a un DLC annuale di 30 euro in alternativa Che mi faccia avanzare alla versione di FIFA più recente Tanto ormai è tutto in download, che ci vuole? Chi vuole entrare nel mondo di FIFA la prima volta si troverebbe a spendere sempre 60 euro Mentre chi volesse semplicemente fare un avanzamento di versione lasciando il foot, carriere, tutto invariato dall'anno precedente Basterebbe pagare metà prezzo Chi non volesse pagare il DLC si ritroverebbe ad usare una versione del gioco non più mantenuta Magari con i server chiusi Facendo anche risparmiare bei soldi a FIFA Ricordiamo anche la news dei server che sono crashati Poi questa soluzione che sto dicendo io Ovviamente del DLC che aggiorni solo le rose anno dopo anno Se non farlo ora, quando? Sai che figata chiamare il prossimo titolo di FIFA 2X E tenerlo in funzione per 10 anni con il minimo sforzo e massima resa Inoltre gli utenti tirchi come me Andrebbero giù di microtransazioni come se non ci fossero domani In 10 anni la possibilità di beccare Ronaldo è molto più alta Quindi anche gli utenti tirchi sarebbero tentati di fare le microtransazioni Mentre il nuovo titolo da 60 euro di nuovo Magari potete farlo arrivare con gli anni 30 Facendo per esempio un FIFA 3X Vuoi ammettere che è figata Invece di FIFA 30 Che sembra pure ridicolo ormai Iei, non so se mi volete ascoltare Altrimenti parlo a voi 2K Games Se fate un calcistico di questo tipo Games as a service I miei soldi saranno vostri al 100% Anche se non è figo quanto pes In effetti, 2K Dove sei? Ti manca solo il calcio Hai rubato tutti gli sport, Iei